Questo tipo loro? E che premio ha vinto nella scuola? Che domande! Che premio strega, no? E che altro è fatto di bello? In piazza Barberini, nell'ora di punta, dove c'è il massimo del traffico, può aiutare un'anziana signora ad attraversare la strada. Anche questa è una nobile azione. Chissà che belle parole avrà avuto per te e la donna. Neanche per idea! Anzi, mi ha insultata e mi ha dato una borsettata in faccia. Incredibile! Ma come si chiamava quest'anziana signora? Raffaella! Raffaella Carrara! Questo l'ha detto lei! Lei mi ha detto che si chiamava Raffaella! Io sono qui con un piccolo di nostalgia e una magia che mi sento...